buongiorno oggi 8 marzo festa della donna auguri a tutte le donne anche se a mio parere bisognerebbe festeggiare la donna tutti i giorni e non solamente l'otto marzo o solamente festeggiare l'amore il 14 di febbraio ma va bene prendiamolo come un giorno per divertirci e per festeggiare noi donne che siamo tutto possiamo tutto e riusciamo in tutto quindi auguri a noi e iniziamo questo blog insieme allora oggi appunto è martedì io come tutti i martedì scusate con sempre per ragazze fate caso si intravedono anche cose nuove vabbè ho avuto incanto però vabbè niente madonna ragazzi quanta polvere quanta polvere io odio spolverare ma perché perché odio così tanto spolverare è una cosa che proprio non mi piace vabbè mi sa che comunque me toccherà spolverà prima o poi no va bene allora detto ciò io adesso cosa faccio a devo stendere questi stando questi e e poi penso a cosa fare per pranzo mi sono fatta mi sono messa sulla di sana adesso e niente ci aggiorniamo dopo allora vado a piegare i panni no vado a stendere i panni oggi proprio prendetemi prendetemi così perché so non so perché sto a mille e prendetemi così rieccoci ho pranzato mi sono fatta una bruschetta perché non c'avevo assolutamente voglia di mettere a cucina quindi ho preso mi ho assemblato e adesso volevo guardare è da ieri che ci penso voglio riguardarmi tre metri sopra il cielo lo so lo so è un film prettamente adolescenziale però mi ha presa così è da ieri che ci sto a pensare sto film dico madonna santa ma andrebbe di rivederlo so anche il perché mi è venuto in mente di vedere sto film ma lasciamo perdere tutta una logica nella mia testa però lasciate stare vabbè comunque tralasciando questo escursus e queste parentesi su parentesi mi cerco sto film anche perché è l'una passata sono quasi le due e fino alle quattro almeno così mi riposo e mi guardo il film anzi prima delle quattro perché devo andare a prendere i figli prima delle quattro e poi devo far fare ancora i compiti devo far finire i compiti aurora ragazzina e ciao i compiti in continuazione io non so come poi vado in palestra e poi vado a cena con le mie amiche buongiorno allora oggi è il giorno dopo è mercoledì 9 e io stavo editando il video dell'otto marzo della festa dell'otto marzo della donna che avevo fatto tante belle cose ma purtroppo ho sbagliato la modalità video ho messo la modalità slow motion e quindi praticamente c'ho tutti i tutte le clip completamente fuori senso fuori tempo fuori tutto quindi niente e quindi ho caricato praticamente un pezzettino della mattina non vi ho potuto caricare il pezzo dove vi facevo vedere l'outfit dove vi facevo vedere la tuta che sono andata in palestra che avevo tutto il completo del chance apart bellissimo comodissimo niente ragazze e ve prendete ve lo farò vedere nei prossimi giorni io non so cosa fare infatti anche l'intro diciamo la chiusura non l'ho fatta l'ho fatta stamattina ho risbagliato un'altra volta la modalità video quindi lasciamo perdere ancora sto cercando di capire come funziona questo benedetto telefono però non importa andiamo oltre oggi è un altro giorno e io vi registrerò anche questo giorno qua però volevo farvi vedere visto che ci sono e mi piace tanto come sono vestita oggi aspettate e giro la telecamera allora eccoci qua oggi praticamente ho ritirato fuori questi pantaloni che avevo preso da shane l'avevo presi l'anno scorso e l'ho ritirati fuori ci ho messo non la sua felpa che ce l'ho ma una maglietta e niente mi piaceva tanto come erano come era abbinato e a posto non ci fate caso che sto gonfia ieri sera ho mangiato un botto e quindi oggi siamo in fase detox e niente e quindi da oggi inizierà una nuova giornata vi continuerò il vlog praticamente che non sono riuscita a editare e a registrarvi per via della modalità video che adesso ha cambiato quindi speriamo che non succeda più nulla e quindi niente andiamo avanti con la nostra giornata andiamo avanti con la nostra giornata abbiamo portato aurora a karate e adesso sto qui devo aspettare 40 minuti e non so che fa lui gioca con la nintendo io mi sono portata il libro ma mi sta avvenendo un sonno è veramente un sonno allucinante però adesso mi metto il gruppo mamma mia mi bruciano gli occhi e mi si stanno a chiudere vabbè ora dobbiamo aspettare un po' dobbiamo aspettare un pochino e poi andiamo a casa è finita la giornata anzi anzi che stasera i compiti non li deve fare perché comunque l'ha fatti e cioè se l'era avvantaggiati per oggi perché sapeva che non avrebbe fatto in tempo e quindi abbiamo finito pure i compiti io che sono vabbè ragazzi facciamo una cosa io il vlog lo chiudo qua perché penso che sia già avvenuto abbastanza lungo e ci vediamo al prossimo video spero di avervi tenuto compagnia anche se purtroppo mi sono persa un paio di clip che avevo girato ieri ma pazienza può succedere spero appunto di comunque che questo vlog vi sia piaciuto spero che vi abbia tenuto compagnia in qualche modo io vi mando un bacio e iscrivetevi commentate che a me fa sempre piacere e ci vediamo al prossimo video ciao ciao